la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere quali sono le caratteristiche principali di canva oggi cominceremo a realizzare un progetto e ci soffermeremo sulla sezione elementi per prima cosa voglio farti vedere che io ho salvato nella barra dei preferiti il sito di canva in modo da non doverlo digitare tutte le volte ma visto che so già che ci devo lavorare me lo sono già messo lì comodo comodo ecco la nostra pagina principale andiamo su crea un progetto e questa volta scegliamo la presentazione perché la presentazione perché è quella che ci fa vedere il maggior numero di elementi che possiamo utilizzare abbiamo una pagina bianca e nella colonna di sinistra come al solito una serie di icone la prima quella che ci interessa è elementi cosa sono gli elementi non sono altro che disegni linee forme elementi di grafica foto video audio cioè tutte quelle cose quegli elementi appunto che puoi aggiungere sulla tua pagina vediamo come si organizzano questi elementi allora sappiamo già come si inseriscono sappiamo che basta cliccare e l'elemento viene riprodotto sulla pagina vediamo come sono organizzati allora intanto abbiamo un usati di recente questo potrebbe essere comodo perché magari hai utilizzato le ultime volte qualcosa che non ti ricordi più dove hai trovato perché gli elementi ce ne sono talmente tanti che ci si può perdere e qui li trovi raggruppati come al solito di fianco ad ogni sezione c'è vedi tutto qui ti fa vedere soltanto le prime cose con questa freccina puoi scorrere se gli dici vedi tutto ti apre tutti gli elementi usati di recente che cosa c'è poi ci sono linee e forme veramente di tutti i tipi ci sono le grafiche cioè elementi realizzati con i disegni i colori gradienti cioè non quelli a tinta unita ma quelli con le sfumature che potrebbero servire per dei riquadri o per degli sfondi gli adesivi quelli che si chiamano sticker comunemente ecco qua anche qua sono divisi per argomento freccia parole cibo sagomati emoji eccetera eccetera ci sono addirittura delle raccolte illustrazioni che riguardano un tema preciso ecco perché ti ho detto che ci si può perdere quindi il trucco è sapere bene che cosa si vuole fare allora diciamo che io voglio preparare un lavoro che illustri la vita che ne so di un gatto allora per evitare di perdere tempo che cosa faccio torno all'inizio clicco la parola gatto ed ecco che ho tutti i gatti che mi possono servire qui sono messi tutti insieme se io voglio solo la grafica cliccherò grafica se voglio delle fotografie dei video vabbè degli audio dei gatti ah no ci sono ci sono ci sono delle musiche che si riferiscono al gatto ok allora diciamo che io faccio una panoramica così di tutto quello che vedo e vado a scegliere una foto perché voglio insegnarti ecco una cosa allora diciamo che mi piace la foto di questo gatto questa foto però mi crea un problema perché 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 a me interesserebbe soltanto l'immagine del gatto questo sfondo nero che occupa praticamente metà della dell'illustrazione non mi piace voglio toglierlo allora io ho due possibilità clicco sulla illustrazione vado dove c'è modifica immagine e qui c'è strumento di rimozione dello sfondo questo strumento io ce l'ho però attivo in due casi se ho scaricato il programma a pagamento oppure se sto usando canva for edu cioè se la scuola che frequento mi dà la possibilità di utilizzare il programma for edu cioè quello dedicato alla scuola ma se io non ho una di queste due possibilità semplicemente sono un ragazzo che vuole utilizzare canva così per i fatti miei e non ho intenzione di spendere dei soldi come posso fare per togliere lo sfondo da una fotografia è molto semplice bisogna ovviamente ricorrere a un sito esterno per prima cosa devo scaricare la fotografia sul mio computer sappiamo come si fa scarica non la scarico in pdf però attenzione bene perché è un'immagine quindi scarico un png ecco fatto eccola già qua poi che cosa faccio apro un'altra pagina e scrivo remove.bg ecco qua mi si apre questo sito che è fatto apposta è gratuito non bisogna installare niente è fatto apposta per rimuovere lo sfondo alle fotografie scelgo scelgo dove me l'ha messo me l'avrà messo nei download immagine png apro eccola qua la riconosci fatto ho solo la testa del gatto pochissimo gli dico download gli dico download ecco fatto me l'ha scaricato lo appoggio qui sulla scrivania chiudo torno qua torno qua elimino questa foto che adesso non mi serve più e anziché scegliere il mio gatto vado dove c'è l'icona caricamenti carica file dove l'ho messa l'ho messa sulla scrivania eccolo qua vedi lo trovi lo trovi lo riconosci perché nel file c'è la scritta del sito che abbiamo utilizzato ok scelgo questa apri lui in pochissimi secondi carica l'immagine eccola qua io la clicco ed ecco fatto che me la ritrovo esattamente sul mio desk di lavoro adesso che cosa posso fare è inutile che tenga tutta questa immagine la taglio taglio quello che non mi serve allora vado su taglia grazie a queste manigliette decido che voglio tenermi proprio solo la figura l'immagine ecco fatto gli dico fine ed ecco fatto qua mi serve tagliare tutta la parte che c'è fuori perché potrebbe darmi fastidio se io voglio aggiungere degli altri elementi così abbiamo anche imparato come si ritaglia una foto bene allora io comincio a posizionarla proprio qui perché voglio che spunti da qui sotto perfetto ecco qua adesso devo ambientare la mia storia ma la voglio ambientare ad esempio in una cucina quindi che cosa faccio allora sono di nuovo su elementi e digito cucina vediamo che cosa succede come al solito posso utilizzare i filtri allora sappiamo già che utilizzeremo soltanto elementi gratuiti sappiamo che possiamo cercarli anche per colore io sceglierei orizzontale perché ho scelto una presentazione quindi quadrato e verticale non avrebbe molto senso e applico questo filtro vediamo un po' cucina voglio una foto e vado a cercarmi una cucina che sia che abbia un po' ecco qua ad esempio un primo piano del tavolo può andare bene? sì può andare bene allora questa immagine che io ho scelto voglio farla diventare la mia immagine di sfondo basta che io la allarghi fino a farla coincidere con la mia pagina bianca attenzione però guarda che cosa sta succedendo sta succedendo che siccome io ho inserito questa immagine dopo il gatto il gatto è rimasto dietro ma io voglio che il gatto sia davanti allora cosa devo fare? devo cambiare la posizione ad esempio posso dire a questa vado su posizione e gli dico mettiti indietro avrei potuto fare la stessa cosa andando sulla immagine del gatto e dicendogli di andare avanti ok? adesso posso continuare ad aprire la mia immagine che è diventata un'immagine di sfondo perfetto quindi abbiamo imparato a ritagliare lo sfondo di un'immagine anche se non abbiamo la versione a pagamento abbiamo imparato a inserire un'immagine e a metterla di sfondo senza che questa si sovrapponga a quello che io ho già benissimo aggiungiamo un altro elemento questa volta voglio un topo ecco qui facciamo che scegliamo un elemento animato per dare un po' di vivacità al tutto ecco un'altra cosa di cui devo sempre a cui devo prestare attenzione è meglio che io il gatto lo sposti da questa parte magari lo rendo anche un pochino più grande ok e invece il topino che grazie a queste manigliette io rendo più piccolo lo metto qui perché ho fatto un cambio perché il gatto emerge dall'immagine e quindi è in primo piano il topolino invece doveva appoggiare sulla superficie della cucina ma qui c'erano i fornelli era poco credibile che il topo si appoggiasse sui fornelli mentre è più credibile che il topo vedi si appoggi sul ripiano quindi quando costruisci qualcosa di un po' complesso dove ci sono immagini sfondi eccetera eccetera cerca sempre di fare attenzione anche a queste sfumature che in realtà sono dettagli molto importanti abbiamo scelto un elemento animato perché perché essendo una presentazione io so già all'inizio del progetto che è qualcosa che faccio vedere non è qualcosa che mi serve come dire da stampare e quindi posso utilizzare anche qualcosa che si muove perché non perderò non perderò l'effetto posso anche aggiungere una animazione alle mie immagini cosa faccio selezione l'immagine ricordati sempre che quando vuoi lavorare su un elemento lo devi selezionare vado qua dove c'è scritto animazione e qui ecco si lo posso far comparire dal basso vedi che se appoggi il mouse senza bisogno di schiacciare nulla lui ti fa vedere cosa succederà all'immagine io lo voglio far venire su dal basso perfetto non puoi regolare la velocità se non hai un count a pagamento però puoi anche vedi fare altre cose pop up eccetera va bene posso anche farlo comparire va bene così diciamo che a me va bene questa animazione che ho scelto dal basso come faccio a vedere il risultato finale di questo lavoro l'avevamo già accennato si clicca su presenta standard hai visto rifacciamo presenta è comparso il gatto il topolino si muove quindi il risultato del mio lavoro c'è a questo punto io posso tranquillamente chiudere il mio lavoro sappiamo che se chiudo non succede assolutamente niente perché viene salvato automaticamente la cosa che posso fare però è mettere un titolo allora la chiamiamo presentazione gatto tanto per ricordarci qual è il progetto a cui stiamo lavorando bene ci vediamo la prossima volta in cui parleremo di testi buon lavoro